Buongiorno e ben ritrovati da LelioMinaia.com, Borgomaria in provincia di Novara, nel nostro consueto spazio di presentazione dei prodotti Hi-Fi. Oggi vi presento questo lettore CD di Denon, prima uscita nel catalogo dell'anno 2005, ed esattamente il modello DCD 1500 AE. Questo lettore, oltre a leggere i CD convenzionali, è anche un lettore Super Audio CD a due canali. Possiede un processore AL24, convertitore DA Burr-Brown DSD 1791, meccanica di caricamento proprietaria, denominata SVH, oscillatore clock di massima precisione per sopprimere il jitter, trasformatori separati per stadio analogico e digitale, uscita analogica RCA, uscita digitale, quassiale e ottica, che poi andremo a vedere sul pannello posteriore. Telecomando Slimline in dotazione. Le finiture erano il nero e il premium silver come questo in presentazione. Altre caratteristiche di questo lettore, sistema di conversione audio DA 16 bit 44,1 KHz. Risposte in frequenza per il Super Audio CD da 2 a 50.000 Hz e per i CD da 2 a 20.000 Hz. THD dello 0,0013%, rapporto segnale rumore di 104 dB. Le sue dimensioni sono una larghezza di 43,40 cm, un'altezza di 13,50 cm e una profondità di 33,10 cm, con un peso di ben 7,60 kg. Ve lo faccio vedere anche più da vicino. Pannello frontale, l'interruttore acceso e spento, l'uscita per la cuffia da 6,3 mm con la sua regolazione del volume, i tasti del lettore CD. Sopra è anche fatto bene come costruzione. ve lo faccio vedere dietro. Quindi, uscita analogica RCA, le uscite digitali, ottico, l'ottica Toslink e l'acquassiale elettrica. Baschetta IEC per il collegamento alla rete. Come sempre, se il video vi è piaciuto, sostenetemi sul mio canale YouTube iscrivendovi e arrivederci al prossimo video. Grazie da legliominaya.com, Borgomaneri in provincia di Novara. Grazie.